come vedete le auto che vanno in uzbekistan abbiamo visto in tutto questo tratto del kazakhistan hanno un sacco di valigie di roba sopra ne abbiamo viste alcune che hanno rotto qualche parte della macchina perché hanno veramente tanta tanta roba e il problema che se devono controllare tutto ci mettiamo fino a domani mattina e fa un caldo boia buongiorno e bentornati sul canale dopo cinque mesi di viaggio ci troviamo in uno dei confini più remoti dell'asr centrale stiamo per entrare in uzbekistan il cuore della via della seta buongiorno bentornati sul canale ci troviamo appena fuori dalla frontiera uzbek infatti abbiamo superato il confine proprio pochi minuti fa è andata veramente di lusso questa volta quando hanno capito che eravamo italiani sono stati gentilissimi ci hanno fatto passare davanti a tutti ci è dispiaciuto perché c'era una coda enorme però è andata meglio per noi quando capiscono che siete turisti vi fanno passare subito ci hanno scortato per i vari uffici bisogna specificarlo perché turist turist loro si casano un po fra di loro a me mi hanno fatto fare il pappagallo non so che che frasi abbia detto loro ridevano non lo so però magari ha detto delle brutte cose però vabbè però il soldato ci ha preso ci ha fatto passare davanti a tutti quindi è stato gentile e mo siamo in uzbekistan abbiamo appena fatto l'assicurazione abbiamo pagato 10.000 teng perché prendono anche il denaro kazako prezzo la metà di quello che ci han chiesto perché ci han chiesto 20.000 per due mesi noi gli abbiamo dato 10.000 ha detto ok se li ha messi in tasca e ciao adesso siamo veramente abbastanza approvati perché non abbiamo mangiato dall'ansia e niente adesso penso che cerchiamo un posto qua dove parcheggiare niente ci rilassiamo perché è veramente in kazakistan siamo andati come dei treni adesso abbiamo bisogno di trovare un posto dove rilassarci magari stare anche fermi qualche giorno solo che i primi 300 chilometri sono nel nulla più totale e dicono anche che la strada sia orribile quindi vedremo inizia una nuova avventura in uzbekistan e qui vi porteremo in qualche città basta cammelli basta strade infinite ci sono però faremo vedere qualcosa in più eccoci parcheggiati fuori al ristorante dove siamo stati oggi c'è un bellissimo tramonto adesso andiamo a vederlo anche se è pieno di camion fili della luce non è molto molto bello da vedere però c'è una bellissima luce allora sono passati dei cammelli proprio attorno al nostro camper adesso e fanno paura perché sono veramente enormi e poi si spaventano subito ma sono bellissimi quindi spegniamo la luce e ce li godiamo buongiorno sono circa le nove e mezza stiamo per ripartire adesso dovremmo affrontare circa sei ore e mezzo di guida per arrivare alla prima città tutto un rettilineo proprio nel nulla quindi sarà divertente abbiamo scorte abbiamo tutto abbiamo già comprato più acqua abbiamo una tannica di gasolio in più nel caso però in teoria non dovrebbero servirci e l'aria è fresca quindi ci mettiamo in viaggio prima che inizia a fare troppo caldo allora abbiamo è cominciato lo sterrato dopo pochi chilometri velocità media 15 chilometri orari quindi le recensioni non si sbagliavano quindi sarà che sarà un viaggio lungo dobbiamo andare così piano perché non vogliamo sollecitare troppo il camper perché se rompiamo qualcosa qua veramente dei grandi problemi allora il problema di fare questa strada adesso che sto guidando anch'io e che costo caldo il sole non si vedono le buche finché non ci sei quasi sopra e tra l'altro la gente fa proprio così c'è quindi magari c'è una macchina d'altro senso che è dalla nostra corsia per evitare le buche quindi c'è tutto uno slalom continuo e non bisogna assolutamente togliere gli occhi dalla strada perché sicuro finisci dentro una buca è molto meglio fare sterrato che non questo asfalto distrutto che si rischia molto di più secondo me siamo fermati proprio lungo la strada per mangiare anche perché non c'è spazio per non c'è area non c'è nulla c'è la strada e poi subito il deserto adesso ci mangiamo qualcosa perché sono già troppi giorni che saltiamo il pranzo perché vogliamo andare vogliamo fare ma qua spariamo quindi è meglio mangiare qualcosa proviamo anche il pane tipico uzbeko ripartiamo il termometro segna 35 gradi si fa calda e in teoria ci dovrebbero essere ancora forse una quarantina di chilometri in brutte condizioni poi dovrebbe migliorare la strada lo vedete la strada cioè fare 300 chilometri così è massacrante non ce la facciamo più perché abbiamo anche un problema una sospensione davanti che comunque sono nuove e quindi batte fa un casino che ci fa diventare pazzi ci fa diventare pazzi e sono già le cinque mancano ancora più di 100 chilometri ad arrivare alla prima città non sappiamo se fermarci lungo la strada può fare una tirata unica però boh non lo so adesso decidiamo come vedete nulla ci siamo piazzati in un dinner oggi abbiamo fatto più di 300 chilometri e adesso non tira un filo d'aria fa caldissimo ma stiamo patendo un po' comunque abbiamo trovato questo posto dove possiamo dormire fuori abbiamo già chiesto gratuitamente quindi basta ci fermiamo qua perché più avanti poi c'è la città e magari non troviamo un posto più tranquillo e sinceramente oggi abbiamo dato abbastanza abbiamo guidato dalle 10 fino a 6 o 7 ore per fare questi 300 chilometri quindi bella tosta oggi ragazzi fa un caldo bestiale ci stiamo ero freddendo che nei peperoni che erano nel frigo ho messo la bomba da Marco e niente fa veramente caldo siamo senza energie allora i camion di fianco sono andati via tra l'altro uno si è avvicinato un autista si è avvicinato ci ha chiesto da dove eravamo e poi ci ha chiesto se abbiamo cibo o tutto un po' io ho detto si si è tutto a posto si mette su accende il camion fa retro quando arriva all'altezza della portiera si sporge di nuovo e fa così tenga tenga ha preso il portafoglio e ha trovato fuori dei soldi per darci gli ho detto no 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 glielo ho già fatto vedere creavamo cibo e lui fa che aveva capito cioè è stato veramente gentile nel senso vi assicuriamo che fanno una vita di merda perché stanno dei giorni in frontiera e poi guidano questi camion sulle strade che sono devastate e quindi ancora lui che comunque qua ci sono degli stipendi che da cosa abbiamo letto arrivano anche 100 dollari al mese lui che offre dei soldi a noi cioè è veramente è stato molto molto gentile buongiorno stanotte è notte tranquilla adesso sono circa le 10 ripartiamo dobbiamo comprare la sim e poi ci sposteremo al lago di Aral il camper l'abbiamo pulito esattamente una settimana fa ma ormai la polvere è ovunque entra da tutte le parti e se noi per non morire dobbiamo tenere i finestrini abbassati e quindi per fortuna che il letto rimane attaccato al soffitto e lì non può entrare polvere quindi resta pulito ma tutte le altre parti tutti i giorni dobbiamo andare una pulita perché siamo pieni di polvere allora oggi domenica siamo arrivati finalmente in questa prima città dove dovremmo trovare anche la sim c'è un casino nero fa un caldo bestiale forse abbiamo anche trovato un parrucchiere per Marco che ormai sta tenendo il cappello perché c'ha le corna tutte le mattine e già entendiamo Siamo tornati in camper, ci sono 42 gradi dentro il camper E' veramente, veramente caldo Abbiamo fatto un giro al mercato, al bazar Veramente è tosto questo Da molto stomaco Questo è veramente il primo mercato dell'Asia centrale Cioè teste mozzate di animali Una puzza Budelle Una roba Carne lasciata lì con tutte le mosche Sui tavolini pieni di polvere Devono avere degli stomaci pazzeschi, mamma mia E poi non lo so, siamo marci Siamo marci, siamo senza energie Stavo per svenire ad aspettare lui che si è tagliato i capelli Quanto ti ha preso? Un euro e venti, un euro e dieci Stavo rondando di sudore lì dentro Tra l'altro tagliato i capelli Poi usavo una spugnetta per pulire Che aveva un odore perché è quella che usano su tutti Quindi anticorpi a manetta anche per asciugare Per prendere un sole Qua siamo logicamente tutta un'altra cultura In modi lontani Comunque abbiamo fatto anche la sim Qua dovete stare attenti perché le sim hanno tot giga di giorno e tot di notte Noi ne abbiamo 60 di giorno e 100 di notte Abbiamo pagato 10 euro Il ragazzo ce l'ha fatta col suo passaporto Perché sono le sim per turisti, ha un pochi giga Quindi dato che non vogliamo rimanere indietro Vorremmo provare a continuare a pubblicare dei video Ci saranno dei giga Quindi abbiamo fatto comunque costata 10 euro Quindi buono Speriamo che abbia una buona copertura E niente adesso abbiamo fatto prelevato Siamo diventati milionari perché abbiamo così lì Una mazzetta così di soldi Che abbiamo già tra l'altro speso E adesso smammiamo dalla città perché È impossibile stare qua Io non so come fanno Cioè vabbè sono abituati ma per noi è proprio Mamma mia Adesso ci prendiamo un bel po' laser Senza fare pubblicità ma No abbiamo pratenza Stiamo bevendo penso 3 litri a testa al giorno E andiamo in bagno forse una volta Tutto sudato Comunque per ora se riusciamo a dormire Ma se poi si fa più critica Abbiamo già visto che Delle stanze d'hotel costano 20 euro Quindi vedremo Tanto qua almeno per ora Non ci sono assolutamente posti dove stare nella natura Magari all'ombra di qualche albero Perché non ci sono alberi Hanno iniziato ad esserci qua Da questa città E vediamo Speriamo di trovare qualche posto nella natura Perché per ora solo deserto e basta Quindi vedremo Praticamente sembra una città deserta E' una città fantasma E' una città fantasma Anche se ci sono delle strutture nuove Abbiamo visto Però Cioè c'è una due corsie E siamo l'unica macchina Sulla strada Poi ci sono delle strutture nuove Tipo queste Però nulla in giro Nessuno in giro Adesso stiamo raggiungendo Il museo del lago Daral Allora tutta questa prima zona dell'Uzbekistan E' una regione indipendente Si chiama Karakal Pakistan E come avete visto E' veramente desertica Non c'è quasi nulla Questo è dovuto al disastro ambientale Accaduto al lago O al mare Daral Dovrebbe essere qui Il mare Invece non c'è più nulla Anzi si vedono soltanto più Le barche Utilizzate dai pescatori Da questo popolo Nomade Che viveva di pesca Che ora si è ritrovato A doversi reinventare Quindi ora rimane questo E queste città sono Quasi deserte Come la natura che ci circonda E' interessante vedere questi posti Ma è veramente triste Perché il lago Daral Si è prosciugato Negli anni 60 Queste zone facevano parte Dell'Unione Sovietica E avevano deciso Che sarebbe stato Il maggior produttore di cotone Cioè voi pensate Qui con un caldo pazzesco Hanno deciso Che dovevano piantare Il cotone E il riso Che richiedono Quantità enormi di acqua L'Unione Sovietica Deviò il corso Di due fiumi Che si mettevano nel lago Così da irrigare I campi Delle nuove coltivazioni di cotone A causa dell'evaporazione naturale Dell'assenza di immissari Nel lago Ha iniziato quindi Inesorabilmente a prosciugarsi E in 60 anni Ha perso il 90% Del suo volume A questo disastro Se ne è aggiunto poi Anche un altro Per far posto Alle piantagioni di cotone Sono stati utilizzati Numerosi diserbanti Che inquinarono Il terreno circostante Portando anche Alla contaminazione Delle acque Della RAL Poiché il lago Non ha emissari I veleni Si sono accumulati Sul suo fondo In modo irreversibile Evaporata l'acqua Poi sul terreno È rimasta solo Sabbia mista A polveri inquinanti Le conseguenze Del prosciugamento Del lago di Aral Hanno indotto anche Un cambiamento climatico Nella zona Se prima La presenza dell'acqua Mitigava il clima torrido Oggi L'assenza della stessa Determina un'evaporazione Sempre più veloce Di quella rimasta Le polveri inquinanti Inoltre Rendono sterile Il terreno Anche a centinaia Di chilometri Di distanza Oggi Le rive del lago Si sono allontanate Di circa 80 chilometri Dalla città di Moinag E gli abitanti Hanno perso Non solo La loro fonte Di sussistenza economica Ma a causa Dell'inquinamento Dell'aria Sono anche soggetti A malattie Come tubergolosi E cancro alla gola Che li colpiscono Tre volte in più Della media del paese Incredibile Non sapevamo Se venire fin qua Perché comunque Diciamo che da vedere Alla fine Ci sono queste navi Però Penso che sia stato Comunque importante Venire qua Per il valore Che ha questo luogo Perché Come si ripercuote L'umano Sulla terra Qua è proprio Il luogo Esatto Dove si può vedere Questo Grandi cambiamenti Che l'uomo Sta portando Sulla terra Qua Si può vedere Quindi Anche se Uno può dire Si sono 5-6 barche C'è molto di più Secondo me Sono 120 km Di deviazione Per venire fin qua Su una strada Veramente terribile Che dovremo Ripercorrere Per ritornare indietro E rimetterci in viaggio Però Secondo me Abbiamo fatto bene A fare un salto qua Perché Merita comunque Ragazzi Allora La dentro Una bella birra Ci va Ecco Non c'è acqua Ma c'è una bella birretta Fresca È diventato nuvolo Si sta da dio Un po' d'aria Fantastico Siamo piazzati Molto vicino al museo Ma un po' più distanti Perché là Continuiamo a arrivare Delle macchine Abbiamo incontrato I ragazzi Di destinazione sconosciuta Adesso Stanno aggiustando Un po' la macchina Ma dopo Verranno anche loro qua Così ci facciamo Una bevuta Ci mangiamo qualcosa insieme E parliamo un po' Di viaggi Perché Loro sono già stati In Iran Quindi l'abbiamo già Sommersi Di domande Buongiorno Stamattina abbiamo lavorato Un po' al computer Adesso dobbiamo andare A cercare acqua Nel deserto Perché ieri Avevamo veramente Bisogno di una doccia E dato che dovrebbe esserci Un punto acqua Qua vicino Ne abbiamo approfittato Quindi adesso Andiamo a vedere com'è E niente Oggi abbiamo fatto piavere Nel deserto Quindi l'aria Si è rinfrescata Si sta molto Molto meglio Almeno si può viaggiare Anche un po' più freschi Si vede che c'è l'aria Allora Questo è il risultato Della pioggia Nel deserto Qualcuno ha bisogno Di una lavata Porca miseria Allora Sono le otto e mezza Mancano ancora Una ventina di minuti La strada continua Ad essere piena di buchi E in questo momento Con questa luce Praticamente Si vedono ancora Meno del normale Però stiamo attraversando Una zona Veramente stupenda Finalmente Non c'è soltanto più Finalmente Non c'è solo più Il deserto piatto Ma ci sono anche Delle montagne Delle rocce Che rendono il paesaggio Ancora più interessante Colori stupendi E' veramente bello Speriamo domani Di riuscire A fare delle clip Per farvelo vedere Iscriviti al canale Per non perderti Il prossimo episodio Ti porteremo A scoprire Le fortezze di fango Con oltre mille anni E poi esploreremo La bellissima città di Shiva Una perla Della via della seta